Il primo big match della terza giornata di Serie A al netto di eventuali rinvii causati da positività al Covid-19, che naturalmente non ci auguriamo. Il primo big match in ordine cronologico sarà Lazio-Inter, gara in programma domani, domenica 4 ottobre, chiedo scusa, allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 15. Come arrivano le due squadre a Lazio-Inter? Allora, la Lazio arriva da due partite piuttosto differenti l'una dall'altra, ha esordito in campionato con una vittoria ottenuta sul campo del Cagliari, e poi però ha fatto seguito questa vittoria ad una pesante sconfitta ottenuta contro l'Atalanta in casa, un'Atalanta che si è imposta con il risultato di 1-4 e che ha regalato alla Lazio una sconfitta veramente pesante. Quindi i bianco-celesti, con qualche defezione dal punto di vista della rosa, arriveranno vogliosi di rivalsa. L'Inter, al contrario, arriva da due vittorie consecutive, arrivate in maniera molto differente, la prima contro la Fiorentina con una rimonta, una contro-rimonta e una contro-contro-rimonta, che ha portato poi in erazzurri a portare a casa i tre punti con il punteggio finale di 4-3, e poi una vittoria mai messa in discussione contro il Benevento, partita che è terminata 2-5. Dunque, per quanto riguarda Lazio-Inter, ragazzi, prima di tutto ne approfitto per ricordarvi che, utilizzando l'applicazione OneFootball, voi potrete andare a pescare la pagina, la sezione relativa a Lazio-Inter, prima che arrivi il fischio d'inizio, e potrete leggervi tutte le curiosità e le statistiche relative a questa partita, che come vi dicevo è un big match ed è anche una partita che nel corso degli ultimi anni ha regalato diverse emozioni. Vi ricorderete sicuramente il famoso Lazio-Inter 2-3 dell'anno di Spalletti, con il quale l'Inter si qualificò appunto alla prossima Champions League. Quindi, appunto, vi ricordo, sull'App OneFootball potrete andare sulla sezione Lazio-Inter, leggervi tutte le statistiche, tutte le curiosità e anche tutte, naturalmente, le ultimissime notizie anche di formazione, per arrivare preparatissime alla partita che andrà in scena proprio domani alle ore 3 e comunque per la quale la stessa applicazione vi potrà fornire tutte le notifiche in diretta dei gol e di tutte le azioni salienti che arrivano in questa partita. Vi ricordo quindi in descrizione trovate il link per scaricarla e quindi, se volete farlo, potrete consultare, appunto, tutte queste statistiche. Allora, la partita, vi ho detto, verrà disputata domani, andrà in scena su Dazon, sull'applicazione Dazon, e sul canale Dazon One di Sky per tutti gli abbonati. E, naturalmente, su passionainter.com potrete leggere sia la cronaca testuale della partita, come ogni volta, che potrete seguire anche la nostra diretta, perché, come ormai avrete imparato a vedere, il nostro Lorenzo in particolare seguirà da un'ora e quindici minuti circa prima dell'inizio della gara fino all'ampio postpartita, farà tutta la radiocronaca della gara e commenterà insieme a tutti voi la partita. Poi mi aggiungerò anche io e la commenteremo tutti insieme. Come arrivano le due squadre alla gara? Ve l'ho detto. Quindi andiamo a vedere a questo punto come arrivano le formazioni a livello proprio di Rosa e di probabili formazioni. Partiamo dai padroni di casa della Lazio, che ha diverse defezioni, soprattutto, come dicevo prima, in difesa. I due calciatori da valutare al momento sono Radu e Correa. Nel caso in cui dovesse mancare Radu, difensore, appunto, bianco-celeste, per Inzaghi le scelte sarebbero obbligate, perché nel 3-5-2 davanti a Stracoscia gli unici calciatori disponibili sarebbero Bastos, Acerbi e Patrick. L'alternativa eventuale a uno di questi tre sarebbe Parolo, che è un centrocampista, lo conoscete, e che quindi sarebbe adattato. Quindi grande emergenza in fase difensiva per la Lazio, che fino all'ultimo cercherà di recuperare, appunto, Radu e Correa, ma che non ha detto che riescano a scendere in campo. La probabile formazione ad oggi della Lazio è un 3-5-2, con Stracoscia in porta, vi dicevo, Bastos, Acerbi e Patrick, scelte obbligate in difesa. Lazari, Milinkovic-Savic, Lukas Leiva, Luis Alberto e Marusic a centrocampo, coppia d'attacco, Caicedo, immobile, confermatissima, a maggior ragione in caso di assenza di Correa. Venendo poi all'Inter, Antonio Conte, nella conferenza stampa prepartita, ha confermato che Arturo Vidal sarà disponibile. La botta che ha subito nel corso della gara contro il Benevento non è stata grave, quindi ha recuperato senza problemi, se è allenato, sarà disponibile. Per quanto riguarda l'Inter, la forma che viene data come più probabile ad oggi è una sorta di mix fra la squadra che è scesa in campo contro la Fiorentina e quella che è scesa in campo contro il Benevento. Ci sono tutta una serie di dubbi, diciamo, di ballottaggi che il mister deve ancora risolvere. Io vi do la probabile formazione che c'è in questo momento, nel momento in cui sto registrando questo video. Quindi un 3-4-1-2 con Andanovic in porta, D'Ambrosio che al momento è in vantaggio su Skriniar per giocare in difesa al fianco di De Vrij e di Bastoni, confermatissimo Hakimi sulla destra, così come Ashley Young sulla sinistra, in attacco Lautaro Martinez e Lukaku altrettanto confermati, a centrocampo i principali ballottaggi. Al momento la formazione che viene data come più probabile è quella con Gagliardini e Barella alle spalle di Sensi. Quindi sia Eriksen che Vidal in questo caso andrebbero in panchina, ma come vi dicevo prima, questi ballottaggi verranno sciolti con tutta probabilità nei minuti antecedenti alla gara. Nainggolan non è stato convocato, per motivazioni, lo saprete tutti, di mercato, quindi non sarà a disposizione. A disposizione sarà invece Pirola, che a sua volta è prossimo ad un'uscita, è prossimo ad andare al Monza, ma comunque lui sarà a disposizione. Vi ricordo quindi ragazzi, come vi dicevo prima, la gara inizia alle 15, su passionainter.com, sul nostro canale YouTube, troverete fino dalle 13.45 la nostra diretta, con la quale vi accompagneremo dal pre-partita per tutto il corso della gara fino all'ampia post-partita. Quindi vi ricordo naturalmente di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perderevi tutte le novità e anche per rimanere aggiornatissimi sulla gara di domani e sulla nostra diretta. E poi vi ricordo in descrizione trovate il link al nostro fantacalcio per partecipare alla nostra lega personalizzata su Fantapaz e il link al nostro Patreon. Fateci un salto, potete ricevere tantissimi contenuti in esclusiva e solo per voi.